Musica Emozionata, tantissimo La ricerca è stata molto intensa Abbiamo visto tante case All'incirca una quindicina Sia nel nostro paese Che nelle zone limitrofe Cercavamo appunto Delle soluzioni un po' diverse Quindi Ci alternavamo tra Una villetta Un appartamento Però poi alla fine Abbiamo scelto questa La ricerca è andata benissimo Mi sono trovata molto bene L'applicazione è veramente Facile da consultare E sempre aggiornata Abbiamo scelto questa casa Perché rispecchia un po' Di tutte le caratteristiche che cercavamo Quindi lo spazio esterno La vicinanza con il paese Per la gestione dei figli Un rustico dove poter fare delle cene Delle feste con gli amici Ognuno ha il proprio spazio Quindi le camere da letto per tutti Sia per noi che per i nostri figli Una per uno Per dargli appunto Lo spazio funzionale Alle loro esigenze Questa ci ha proprio Ci ha rapito Noi siamo entrati in casa L'abbiamo vista con l'agente immobiliare Usciti da questa casa Proprio sul portone Sul cancello ci siamo guardati E ci siamo detti Questa è casa nostra Questa ha vinto su tutte Se non che poi Nei giorni successivi Noi siamo andati a vedere altre case Perché comunque avevamo Già degli appuntamenti fissati Quando poi ci siamo trovati A fare effettivamente la scelta Ci siamo resi conto Che le emozioni Che avevamo provato qui dentro Non erano svanite Neanche avendo visto altro La luce La luce Proprio Sia nel Nel soggiorno Nella cucina Che poi nelle camere Tanta luminosità Immagino sicuramente Che la mia vita cambierà Tantissimo Perché quando vivi in una casa Che ti piace Poi è inevitabile Che affronti le giornate In maniera diversa Casa.it Mi ha cambiato la vita Ringraziamento a Casa.it Per aver indetto Questo concorso Proprio E ringraziamento Alla voce Che oggi È diventata persona Che mi ha assistito In tutto questo percorso Quindi tre mesi Intensi E belli Bellissimi Casa.it Casa.it Contribuisce a trasformare In realtà I sogni di casa Di tanti italiani E tante italiane In questo caso Debora Grazie al nostro concorso Di cui è stata vincitrice Realizza il sogno suo E della sua bellissima famiglia Quindi ci piace aggiungere Questo pezzettino Alla storia Nostra come imprese E come marchio Buona vita Debora E alla sua famiglia Nella sua nuova casa Con Casa.it